E quello di oggi sarà un giro senza panorama. Buon divertimento. Queste uscite servono per fare amicizia, conoscereci bene. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se dovesse piacervi mettete like. Prima di cominciare un ringraziamento a tutti i follower. Grazie ragazzi, grazie ragazze. Gran bel giro. Benissimo. Questo bel giro è organizzato da Sebi Piazza, il presidente di Sifonia Bike. Collegatevi alla loro pagina Facebook per avere tutti gli aggiornamenti sulle tante attività che organizzano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A più me ne ruba e ci fermiamo. Ovviamente anche la traccia di oggi la potete scaricare dal mio profilo Wikiloc. Bel giro, davvero belle cose da vedere ma poi tanta bella gente. Mi ha fatto piacere oggi. Grazie per averlo organizzato. Ne faremo altri. Va bene, ci sto. I numeri ci sono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.